Eeeh what's up a tutti ciurme e benvenuti da giocherini in questo nuovissimo episodio su Spyro the Dragon Vediamo ragazzi se riusciamo ad aggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno ragazzi Allora l'altra volta siamo arrivati qui abbiamo incominciato questo nuovissimo livello che si chiama Cliff Town Dove dobbiamo trovare la bellezza di 400 gemme e 3 draghi Per cui i draghi non sono esagerati le gemme direi proprio di sì Il punto è che avevamo appunto già cominciato il livello la volta scorsa Ed ero riuscita a trovare 83 gemme Tra l'altro a raccogliere già l'uovo di drago ragazzi che lo stronzone di ladro aveva rubato Per cui adesso girando qui la telecamera ragazzi ho notato che ci sono esattamente due gemme Buttate lì sul lato nascosto di questa costruzione Per cui vedete che è una questione ragazzi pure di attenzione Perché magari uno non ci fa caso e le lascia esattamente lì a marcire Quindi poi tu puoi perdere la testa a cercarle e non le troverai mai più Per cui allora avevamo detto di fare pure attenzione ai calderoni Perché i calderoni dovrebbero contenere una gemma comunque di regola Per cui intanto rifacciamo fuori questi altri nemici che già avevamo fatto fuori Sempre per sicurezza 1, 2, 3, 1, 2, 3, strike Ok pensavo c'erano 3 Dai sarebbe stato un po' più soddisfacente Tu smettila di sbeffeggiarmi perché Guarda l'uovo te l'ho già preso Ma siccome non posso sopportare il fatto che lui stia lì ragazzi a prendersi gioco di me Lo riacchiappo lo stesso Non mi interessa Ecco perché non voglio starlo lì a sentire che mi fa Come un deficiente Non lo so Un cretino Ecco semplicemente Ok allora qua dietro c'erano altre due gemme Di cui non ero assolutamente a conoscenza Infatti l'altra volta lo lasciate proprio lì Tranquillamente senza manco troppo preoccuparmene Vabbè che è vero che non è che abbiamo Che ho controllato poi tutto questo ambiente che ci circonda Per cui andiamo allora Qua ce ne sono altre Qua ce stanno due scrigni belli nascosti come sempre ai nostri occhi Abbiamo superato la soglia delle 100 gemme Questa cosa già mi fa abbastanza felice Continuiamo a guardarci intorno ragazzi Perché perdersi qualcosa è semplicissimo Per cui poi l'altra volta avevo soffiato sopra il missile È lì che aveva spaccato uno scrigno se non sbaglio Giusto qua sopra Per cui intanto facciamo fare questi grassoni Come se io potessi avere paura di loro Ho 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 certo Toh Perfetto Allora Ecco qua La gemma dal calderons E poi io avevo visto ragazzi Mi sa che da un'altra parte c'era un altro posto dove poter salire Infatti là sotto se non sbaglio c'è uno scrigno Però non vorrei che devo saltare da più in alto Per cui intanto procediamo di qua Saliamo con tutta la flemma del mondo Ah Mi chiamo mi faccio colpire Tac Grazie Per la sua gentile collaboration Ok Bar e Uh Fiammata e incornata Incornata e fiammata Chi più ne ha più ne metta Benissimo Ok Con i comandi ragazzi Cioè usare i tasti direzionali è sempre abbastanza complicato direi Cioè non proprio complicato però Allora qua ci serve un altro Ma non l'avevo spaccato io questo scusate Forse forse se non raccolgo le gemme no Perché allora intanto saltiamo da qua Uh Ok Fino a lì comunque non ci arrivo Vediamo se va a rompere quello scrigno ragazzi Perché magari se non raccolgo le gemme è infatti Sì Allora qua però io non ci arrivo Non ci arrivo Ma io penso di dover salire di nuovo ragazzi di qua E di dover trovare una strada un po' più agevole per arrivare lì dove mi serve Ok Intanto raccogliamo le gemme di questo scrigno che abbiamo appena spaccato Ecco qua Quanto sono belle luccicose le gemme Quanto sono belle Allora secondo me devo saltare ragazzi su questa pedana qua Ma non sono sicura di arrivarci Forse devo salire ancora più in alto Perché è possibile andare ancora più in alto Per cui intanto saliamo E facciamo fuori i nemici Come il nostro dovere Salviamo pure il drago che ci aspetta Di qua Ecco fatto Grazie ragazzi per la vostra collaborazione Siete veramente incredibili Ok perfetto Salviamo Enzo Un nome normalissimo Ehi che cosa c'è oltre quel fiume Perché non ti alzi in volo e vai a vedere Ah Unilissimo il tuo aiuto È veramente commovente zio C'era il tipo Ma gratta te la rogna da solo Cioè ma cosa vuoi da me Io ero Incastrato nel Nel diamante Fino un attimo fa Ok allora ragazzi Da qui sì che ci arriviamo Proprio Tranquillamente Eccoci qua Ok Ah Minchia per poco Eh ma mo da qua non so se ci arrivo fin lì In planeta Sì ci arrivo Perfetto Continua ragazzi a non avere troppa fiducia Nelle capacità del nostro povero piccolo Spyro Ah l'ultimo drago è esattamente là sopra E là sopra ragazzi in fondo Dritto per dritto ci sono altri scrigni Mi chiedo Se è comunque da qua che ci dobbiamo arrivare A questo punto non lo so Devo tornare un attimo di sopra e vedere se effettivamente c'è qualche altra strada Da poter percorrere Allora qua ragazzi io sto sentendo E infatti vedete Qua c'è data la possibilità di alzarci appunto in volo Per cui intanto prendiamo queste altre gemme qua E da notare che qui c'è ragazzi direttamente il ritorno a casa Per cui quello che ci manca ci manca lì Insomma dall'altra parte come avevo appunto previsto Forse Ah lì ci sono gemme che luccicano Quindi magari da qui possiamo arrivare lì Ci proviamo ragazzi Io risalvo un attimo la partita così Giusto per sicurezza Per essere un pochettino più scrupolosi E proviamo Un, due, tre Oh Sì ci arriviamo, ci arriviamo Iiii Sì Nuova zona scoperta Nuova zona come se fosse tanto Tanto difficile scoprirla in effetti Tu arrosto Arrosto Ok grazie Oh La gemma La gemma è mia Zambi la mia gemma Ok Allora stiamo attenti a non cadere Ma queste sculture si rompono in qualche modo Non so mi davano un'impressione come se gli si potesse fare qualcosa Ah no Delimitano Perfetto Quest'area Quindi la loro funzione principale è quella là Non è che Che devono fare così tante altre cose Che tu mi voli contro pensando di potermi fare paura Non sai che ho le fiamme Dalla mia parte Quindi Puoi direttamente attaccarti a sta grandissima cip Ok Continuiamo Continuiamo a raccogliere tutto quello che si può raccogliere Io spero che non sia troppo difficile ragazzi finire di Prendere le gemme Scusate Mi auguro sinceramente di no Anche perché non saprei dove andare a trovare le altre Però ce ne mancano ragazzi Sessantadue E io qua ho raccolto tutto quello Ce ne mancano sessanta Non lo so Marco qua c'hanno nomi un po' più normali Hai raggiunto il punto più alto di Clifftown Da qui puoi andare quasi dappertutto E se fossi in te userei quel vortice là Lò Ma non sembrava la voce di Homer Simpson ragazzi Vabbè allora perfetto Ci ha dato comunque un indizio diciamo così Nel senso sei arrivato al punto più alto di Clifftown Per cui magari da qui puoi raggiungere altri posti Che magari prima non erano raggiungibili Ah c'è un vortice Anche qua per poter direttamente risalire qui E quindi questa cosa direi che è abbastanza comoda Però Prima di volare di là ragazzi Io direi di ridare uno sguardo qua intorno Perché non vorrei essermi persa qualcosa Ma non credo Ok ragazzi qui dovrei aver raccolto tutto Per cui Non ci resta che Saltare dal punto più alto di Clifftown E vedere dove riusciamo ad arrivare Allora Qua ci devo arrivare sicuramente Ecco Ah Ecco fatto Direttamente a terra Un genio Perfetto Questo si sblocca ovviamente una volta Che si è arrivati qui in cima Quindi non è che ti fanno il favore Di metterlo ecco Direttamente Da inizio livello Cioè te lo puoi proprio grandemente scordare Per cui Planare qui forse è esagerato Però Io non ci vedo molta altra Solution Come cazzarola Proviamo semplicemente a saltare Ecco Cosa più semplice non si poteva Fatto sta che dobbiamo tornare di nuovo di sopra Perché Dobbiamo saltare lì ragazzi E raggiungere Quegli scrigni Per cui saltiamo da qua Dal punto più alto Yuhuuu E vai Ok ci siamo Prendiamo questo scrign Prendiamo questo scrign Stavo per cadere Di nuovo Mannaggia la miseria Puzzolanda E E Ci mancano comunque Altre gemme Per cui ci deve essere ancora qualcosa Ragazzi Nei punti più alti Che me sono fatta a sfuggire Che cosa me sono fatta a sfuggire One eternity later Ho provato a saltare qui ragazzi Non so se l'avete visto Ok Io non so che cosa mi ha spinto a saltare qui Però mi sono detta E l'unica aria che non ho visitato È là dietro Per cui Per fortuna ragazzi Una volta il mio istinto Mi ha detto Di fare bene Una cosa E Si Yuhuuu Ce l'abbiamo fatta E vai Vabbè uno deve andare pure Un pochettino a rigor di logica Certe volte ragazzi Nel senso che Se sei sicuro Di aver visitato tutto E Magari L'unica cosa Ti viene in mente Che non puoi Aver visto È dietro un palazzo Perché giustamente Non ci sei potuto arrivare In altro modo Bisogna provare Bisogna provare E ce l'abbiamo fatta ragazzi Ritorniamo Finalmente a casa Yuhuuu Che meraviglia 3 draghi su 3 E 400 gemme Su 400 gemme Ok Allora Cliff town È stata Completata Oh Ma vattene a fanculo Ma guardate Sti stronzi Di merda Cioè Io non gli stavo Io non gli stavo A fare niente E mi è venuto A tirare Aia Una botta Sti Sto stronzo Ma Mo mi vendico Mo faccio rappresaglia Mi ammasso Tutti quanti Eh Te che ti nascondi A fare To Ecco Te lo sei meritato Pure te Pure se non mi avevi fatto niente Vabbè Allora ragazzi Abbiamo completato Cliff town Per cui Dobbiamo continuare Di qua Allora Qua c'è il livello Della mongolfiera Cioè c'è il livello Si va Con la mongolfiera Direttamente Ad un altro mondo Per cui intanto Salviamo la partita E c'è il prossimo livello Ragazzi Che ci aspetta Proprio qua sotto Non ci manco a farci apposta Grotta ghiacciata Hmm Sembra promettere bene Le nostre fiamme Si scateneranno Qua In mezzo a questo Ghiaccio Perenne Vediamo un po' Uh Un livello Tipo di notte Uh Ammazza Che i ieti Oh Non ne ho mai visto Uno in vita mia Eh C'è sempre la prima volta Giustamente Guardiamoci subito Intorno Qua dietro C'erano già Tre gemme Che ci aspettavano Tu morirai Semplicemente Fai tanto il duro Fai dei muscoli E poi basta Una fiammella Per Buttarti giù C'è Più pessimo di così Non puoi essere Amico mio Prendiamo la gemma Qua Dopodiché Intanto ragazzi Direi sì Comunque di guardarci Intorno Allora qua c'è una pedana Dove si può arrivare In qualche modo E Dopodiché Quindi continuiamo Sulla strada Che abbiamo già Aperto Nel senso Che ci abbiamo Cioè Che ci ritroviamo Già aperta Ecco Non devi evitare Di fare casini Ecco Te Armato di palla Di neve Pensi di farmi paura Ragazzi Non avete capito Con che avete a che fare Intanto vediamo Quante cose abbiamo Eglia santa Minchia Eglia la matassa Cavolo Minchia Cinque draghi Ragazzi Quattrocento gemme Pure qua A livello grosso Ulrich Un avvertimento Ragazzo Aspetta di diventare Grande E come me Prima di caricare Nemici Così grossi Ma va Pensi che io Stia caricando I nemici grossi Brutto Stupido E' ovvio Che sto usando Le mie fiamme No Ok Partita Salvata Vediamo un po' Allora Qua non c'è niente Qua c'è una gemma Abbandonata a se stessa Qua possiamo passare Dentro Prendere quest'altra Gemma E poi quest'altra E poi quest'altra E poi quell'altra E poi questo Mi tira le palle Di neve Povero Spolto Tu ti nascondi Qua dietro la colonna E io te la faccio vedere Nonostante tutto Bam 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 Ok Strike Per una volta Ragazzi Qua sembra Abbiamo preso tutto Per cui Andiamo intanto Di qua E poi ci occuperemo Ragazzi Delle zone Che probabilmente Si devono raggiungere E poi Oh ma sti bistrelli Che vogliono Ragazzi Vi consiglio Di non disturbarmi Perché posso diventare Davvero Molto pericoloso Molto pericoloso Allora Aspettate ragazzi Perché Da qui Dobbiamo raggiungere Questa zona Sopra elevata E poi E poi Possiamo andare Di là Appunto Però visto che ci troviamo Qui ragazzi Direi di Prendere le cose Che ci sono qui A massa Qua la zona Si apre Ulteriormente E mi cagazzi È bella Grande Sta zona Vediamo il nostro Videodrago Che si chiama Todor Sembra il nome Di una marca Di biscotti Pss Piro Più avanti Ci sono Dei bestioni Protetti Da armature Ma nella caverna Ghiacciata L'armatura Può rendere I loro piedi Molto scivolosi I piedi Che c'entrano I piedi Ma che razza Riconsiglio È Se mi dovete aiutare Fatelo bene No Certe volte Mi confondono Ancora di più Le idee Grazie Per il vostro aiuto È davvero commovente Come sempre Eccoci qua Oh Intanto salviamo Allora Queste gemme Adesso Non le prendo Sparks Però Cazzo Ci puoi arrivare Sparks ifying Dico io Prima di farmi cadere Nell'abisso Ci puoi arrivare Porca vacca Guarda Sono qua Cioè ragazzi Se salto così C'è però potrebbe Prenderle Però Vabbè Vorrei dire Che ci devo Saltare Da un'altra Come la prendo Scusa, mo' cominciamo con le cose un pochettino più complicate Allora ci deve essere un modo per arrivare tipo lì volando Una roba del genere Intanto vado di qua Ecco E prendo queste altre gemme Che sono sicuramente più accessibili di quelle altre due E qua serve una chiave Perfetto, non ce ne dimentichiamo Quindi qui la zona per ora è chiusa Andiamo un attimo di qua E vediamo che cosa abbiamo Ah, i loro piedi scivolosi aveva detto Ok, i piedi scivolosi Quindi che significa? Che se gli donna botta dovrebbero cadere? Ah, ok, sì Semplicissimo così proprio Gli hanno fatti grossi, grassi e con le armature Basta dargli in tornata per farli scivolare nell'abisso Ok Guardate, andava benissimo così Noi non ci lamentiamo assolutamente Che te muori Che stavi a fare una bella passeggiatina T'ho distrutto sul più bello Ma Va bene lo stesso così Allora Non è che qua sotto c'è stai qualcosa No, sembrerebbe di no Possiamo anche inquadrarlo Ok Tu muori anche te Cioè ragazzi Il vostro destino è quello Cioè se siete stati creati per quello Cioè per essere distrutti dal piccolo spyro Quindi Cioè inutile combattere Non potete Sottrarvi al vostro destino Ecco Semplice Semplicissimo Madonna santa Ok allora Oggi ragazzi sono nelle tenebre più assolute Perché c'è un tempo proprio di merda Quindi tanto per rendere un po' più piacevole la quarantena Perché il sole non fa... non va bene Andorra Grazie per avermi liberato Ah Tutto qua Ok Cioè o mi danno consigli di merda O non me ne danno proprio Va bene Guarda Non so se da un lato preferire il fatto che non me li diano consigli Perché tanto 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 Allora qua non c'è niente Per cui continuiamo di qua ragazzi Vediamo dove ci porta la via Ok andiamo di qua Prendiamo queste gemme semina Nascoste diciamo così E poi lì c'è la chiave Ci sarà un modo per arrivarci ragazzi Da un po' più in alto Suppongo Per queste Così Poi 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 Non t'azzardare a lanciarmi una palla di neve Che vedi dove te la ficco eh No infatti Ce l'avevo Ce l'avevo davanti Ok Morto pure lui E Ta 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 Di qua non c'è più niente Qua possiamo spaccare questi Ed è arrivato il momento ragazzi In qualche modo Di vedere Come procedere Perché Ah ok Semplicissimo C'è il sentiero C'era il sentiero di qua ragazzi Cioè più semplice di così Si poteva solo morire Realmente solo morire Ok Allora Qua c'è il ritorno a casa Però 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 Qua ci danno la possibilità comunque Di salire E quindi poi dovremo Sfruttare Questo piccolo rialzo In qualche modo Credo Ah ok Qua si può andare anche In un'altra zona All'interno Perfetto Allora intanto Salviamo il drago ragazzi E poi salviamo noi La nostra partita Qua c'è un'altra zona Ancora Ammazza I riveri Gli hanno fatti sempre più grossi Amico Ciao Usher Grazie per avermi liberato Mazza è vecchio Una mezza cariatide Forse facevo meglio A lasciarti là Tipo formaldeide Così magari Ti conservavi un po' meglio Però Ormai Quel che è fatto è fatto Perfetto Allora Andiamo di qua Mazziamo sto Urberone E vediamo un po' Altra zona Altre gemme Ammazza Oh ragazzi È enorme sto posto E non si finisce mai Di scoprire luoghi Posti E cazzi e mazzi Ok Raccogliamo pure questo E poi Bam E poi possiamo andare anche Di qua Uh Ok Qua è tutto Finito Finisce qua la nostra strada E lì non ci arriviamo Per il momento Manco se ci spariamo Ragazzi Per cui mi sembra strano Veramente Che la strada Si sia chiusa così Però 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 Evidentemente È quello che abbiamo Adesso Per cui ci dovrà Pur essere un modo Per saltare Da qua Intanto ragazzi Saltiamo qui Andiamo in quell'altra zona Lì nascosta Diciamo Semi nascosta Perché non è che è proprio Nascosta Ecco qua Ecco Ovviamente Tehe Rendiamo tutto più complicato Con i tasti direzionali Continuiamo a cadere Eh Dai È già su due Te prego Non mi far cadere 20 miliardi di volte Nella stessa zona E che caspita Oh Oh Ecco qua Perfetto Non è così difficile Eh Che cavolo Ok Questo qua Gli diamo una bella spinta Ragazzi Lo facciamo cadere Nell'abisso Anzi Nell'acido In questo caso Perché c'è l'acido Ok Non saltiamo Perché tanto Abbiamo la strada aperta qui Quindi Non ci compliciamo Troppo la vita E questo qua Che fa qui Con le racchette Tipo ai piedi Cioè Boom Ecco Dobbiamo spingerlo Fino a sotto Ragazzi Ci sta poco da fare Cioè Fino ad allora Non muore Perché E tac E tac E tac E minchi Pure Questa zona Ragazzi È grandissima Fatto sai che qua Ci stanno Gemme Sopra Steg E sti cazzo Ripali Eh Ma scusa Oh Ma oh Ma Cioè ragazzi Guardate che se ne va Guardate lo stronzo Io ti frego Io ti frego Perché te Prende All'altra parte Oh Ma avete finito Di tirarmi Palle di merda Cioè io non lo so Mori Va a cagare Pure te Allora Abbiamo eliminato Quelli che ci potevano fare Del male a distanza E stavo dicendo Poco fa Che qua Ci stanno Gemme Sopra Questi maledetti Pali Del cavolo Per cui Eh vabbè Ma no Cioè sto per morire Ragazzi Se non me sto attenta Questa è l'ultima botta Che prendo Allora Vediamo un po' Buttiamolo giù Bam Una Ah ok È bastata una Perfetto Fatto sai Mi servirebbero appunto Pipistrelli Pipistrelletti Per una volta Volete succhiarmi un po' Di sangue Per favore Così che sparks Possa rigenerarsi Eh dai Oh Ok intanto uno L'ho preso Poi Procediamo da questa parte Perché ci stanno Altri pipistrelli Pure qua Ragazzi Oh Non t'azzardare eh Non avevo visto Che era quello Che lanciava Le palle di neve E mori Minchia Sto pipistrello Di merda Sono fastidiosi Proprio come Gli zubat Inutili E fastidiosi Oh Vabbè allora No utili Sono abbastanza Però 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 Allora Io ragazzi Devo ancora capire Come prendere Quelle gemme No sul serio Perché come le prendo Ragnar Che cazzo di Bel lavoro Spiro Per alcuni draghi Non eri ancora pronto Ma io sapevo Che si sbagliavano Sono pronto Ma pronto Per che cosa La bellezza Di questi dialoghi Ragazzi Si sprega Sempre Assolutamente Salviamo la partita Io non vorrei Effettivamente Scoprire in che modo Prendere queste gemme Allora queste Ok così Manco così Manco così Ci arrivo Cioè Sparks E qua Cazzo E qua la gemma Accidenti Mi sa che da questo momento in poi Non riuscirò più a completare i livelli Al 100% Per quanto questa cosa Mi faccia male al cuore Ragazzi Però Un attimo Allora Intanto Vediamo Se riusciamo A trovare altre gemme Però la chiave Per il forziere Io effettivamente Non l'ho trovata Così manco ci arrivo Qua insomma Ah qua c'erano tra l'altro Sti due pali di merda Con le gemme di sopra Ah da qua ci arriviamo ragazzi A prendere la chiave Per cui questo piccolo problema È risolto Il problema Continuano a rimanere Quelle altre gemme Che Comunque per ora Sembrano irraggiungibili Ragazzi Quindi Non lo so Non lo so Ok ragazzi Allora Ho ritrovato il forziere Starete dicendo pure Era ora Eccoci qua Ok Almeno questo Riusciamo ad aprirlo Voilà Wow Quante gemme Siamo riusciti A racimolare Vediamo un pochettino Ce ne mancano Sedici Ah ci picchia Ce ne mancano sedici Allora Sei delle quali ragazzi Stanno sui pali Eccola Eccola là in fondo Sei delle quali Stanno sui pali E questa sembra Un'ottima base di lancio Io provo ragazzi Faccio un tentativo Ah Oh Oh Ecco 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 Ok ok Fermi tutti Meno male Ho recuperato un po' di vita Sembra essere fatto apposta Perché Ne ho perse un pochettino Effettivamente in questo livello Per cui allora Queste siamo riuscite Riusciti Scusate A raccoglierle E quindi ok Di qua si torna qui E ok Però Ci doveva pure essere Per un altro modo Per raggiungere Qualche altro posto Ok io proverei a lanciarmi di nuovo Da qui ragazzi E vediamo Se riusciamo ad accedere A qualche altra zona segreta Allora di qua A mano voi Questa volta A Tra l'altro Riuscire A raggiungere A prendere Ragazzi Quelle gemme Che stanno sopra i pali Quindi credo che quelle Probabilmente Siano le ultime Che ci restano Da raccogliere Ce ne mancano Soltanto 16 E Credo che Il problema Sia quello lì Quindi Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Io vado a share a tutti Ragazzi La giocherina Ciao